Eccolo il biglietto da visita nella nuova dimensione agonistica. Carmelo Musci si presenta così nella categoria promesse. Vince la medaglia d'oro nel peso ai campionati italiani, giovanili al coperto di atletica leggera andati in scena al pala indoor di Ancona. 18 metri e 22 centimetri la misura con cui il colosso di Biceglie è salito sul gradino più alto del podio, mettendo in bacheca addirittura il quindicesimo titolo tricolore della carriera. Numeri impressionanti per un ragazzo che deve ancora compiere 20 anni. Il portacolori delle fiamme gialle, allenato da Gaetano d'Imperio, tornerà in gara già domenica a Bari nel disco e poi, sempre nella stessa specialità a fine mese, sarà uno dei protagonisti più attesi dei campionati italiani di lanci lunghi nel nuovo impianto sportivo di Molfetta, dedicato proprio all'atletica. Il suo momento clou della stagione, inutile nasconderlo, è in calendario a Bergen in Norvegia dall'8 all'11 luglio, quando sarà impegnato nel getto del peso ai campionati europei under 23. E al primo anno, in una nuova categoria, quella juniors però, anche Nicola Lomuscio, Andriese non ancora maggiorenne, che marcia davvero forte, il 17enne dell'amatoria atletica Acquaviva, allenato da Pino Tortora, ha vinto il bronzo nei 5.000 metri, bissando il terzo posto ottenuto sempre in rassegna tricolore ad inizio anno sulla 20 chilometri. Ultimo gradino del podio nel salto in lungo, juniors invece per Adriana Cosmai. 6 metri e 0-1 la misura per la Bicegliese, tesserata con l'Olimpia Club Molfetta. Bronzo al pala indoor di Ancona, infine pure per Alessia Mucciaccia, la tranese dell'Axi Italia Atletica e salita sul podio dei 1.500 metri juniors femminili con il crono di 4-37-58.